Qua dentro Qualcuno voleva andare in Giordania Mi aveva detto Ok, questo è una sintesi Perché è una sintesi Perché quando uno va a Petra Ti trovi con le montagne E così Comunque andare a Petra Siamo in tue orecchie Ci sei andato No Va bene, vediamo se riesco a creare Qualcos'è Però dobbiamo vedere Sette mesi prima ragazzi Sette mesi prima Non ovviamente in inverno Sì, lo soppri così Lo soppri così Lo fai C'è anche l'attenzione Ero sì Sono tanti giorni Da lì Grazie.